Qualcuno di voi ha impegni per domenica 8 novembre? Invece ce l'avete l'impegno per domenica 8 novembre? Qualcuno di voi ha una mezza giornata da dedicare al futuro dei suoi figli per riempire, liberare il cuore del sistema rosso? Tutti a Bologna domenica 8 novembre in casa della COP, della CGL, della mafia rossa che se ne fotte dei lavoratori e si occupa dei banchieri e noi li mandiamo a casa se voi ci siete.